Salve a tutti e ben ritrovati. Dopo il periodo più fresco che abbiamo vissuto in questi giorni, l'arrivo anche di piogge temporali che hanno colpito molte zone della Puglia, un graduale miglioramento già partito in queste ore, ma nel corso del fine settimana, attenzione perché è confermato l'arrivo di una nuova ondata di caldo africano, ormai è la quinta di questa stagione, ad opera proprio di correnti che dal SAR tenderanno ad invadere tutte le zone dell'Italia meridionale, compresa anche la nostra regione. Termometri quindi nuovamente in risalita e saranno a portata di mano i 40 gradi su alcune zone del territorio Puglia. Vediamo quando e dove. Partiamo infatti dalla giornata di oggi, cielo in prevalenza poco nuvoloso con temperature in aumento massime fin verso i 32-33 gradi con le zone più calde che saranno il Tarantino ed il Foggiano. Ventilazione ancora debole dai quadranti settentrionali, ma il caldo si farà sentire soprattutto nella giornata di sabato quando avremo cielo in prevalenza sereno e temperature in ulteriore aumento, picchi fino a 35-36 gradi sul Foggiano, fino a 34-35 gradi anche sul Salento e nell'Interland barese, specie nell'immediato entroterra. Il vento comincerà a ruotare, si risporrà dai quadranti occidentali, ma è domenica la giornata più calda di questo fine settimana quando raggiungeremo nuovamente temperature che non saranno assolutamente sopportabili, picchi fin verso i 40 gradi sul tavoliere, intorno ai 35-37 gradi diffusamente su tutte le altre zone interne della regione. Anche durante le ore notturne faremo difficoltà a dormire tranquillamente con le minime che scenderanno molto difficilmente al di sotto dei 24-26 gradi, ma non è tutto perché la prossima settimana si apre ancora con il caldo africano, poi qualche piccolo cambiamento, ma di questo ne parliamo come sempre lunedì. Grazie per l'attenzione e buon weekend!